Ciao bimbi, stasera leggeremo l'ultimo capitolo di Catizzi. È un capitolo molto importante, ma non è in realtà l'ultimo capitolo della storia di Catizzi, perché Catizzi è una serie di libri, non ce n'è uno solo. La scrittrice si chiama Katarina Taicon. Vi dice nulla questo nome? Catarina Catizzi. Taicon, come sapete, è il cognome del papà di Catizzi. L'autrice racconta in questo libro la sua personale storia. Quindi è un libro, si dice, autobiografico, cioè che racconta la storia dello stesso scrittore che sta scrivendo la storia. All'inizio del libro c'è una breve introduzione che vi voglio leggere prima di leggere il capitolo finale. Non l'ha scritta Catizzi, l'ha scritta sua figlia, Angelica. È brevissima, ma è molto importante. Ciao, i libri di Catizzi sono stati scritti da mia madre e parlano della sua infanzia. Mia madre è nata nel 1932 in Svezia, da padre rom e madre svedese. A quel tempo era molto dura essere rom. I rom venivano perseguitati, non potevano abitare negli appartamenti o nelle case e nemmeno andare a scuola. Erano costretti a vivere ogni giorno con la paura che qualcuno li cacciasse dal loro campo, attaccasse briga o semplicemente li trattasse male. La storia raccontata da mia madre parla di quello che ha vissuto in prima persona. Nei libri su Catizzi avrei modo di leggere quello che capita a lei e alla sua famiglia da quando ha sette anni a quando sta per compiere diciassette anni. Dopo essere diventata adulta e aver avuto figli suoi, la mia mamma ha iniziato a lottare perché i rom avessero gli stessi diritti degli altri svedesi. È stata una battaglia lunga e dura, in cui ha incontrato molti svedesi pieni di pregiudizi. Dopo un po' ha deciso di scrivere libri per bambini e ragazzi, perché era convinta che sareste stati voi a riuscire a cambiare il modo di vedere i rom e le altre persone che subiscono umiliazioni, discriminazioni e preconcetti. Leggendo imparerai a conoscere una parte della storia della Svezia. È importante che tu sappia cosa è successo in passato per decidere che tipo di persona vuoi diventare e contribuire così alla creazione del futuro tuo e degli altri. Buona lettura. Firmato Angelica. Allora, leggiamo l'ultimo capitolo che si intitola, purtroppo, Cacciati. Ogni giorno, per due settimane, Catizzi e Lena andarono a scuola. Certo pensavano fosse un peccato non poter giocare con gli altri bambini, ma era comunque divertente imparare le lettere dell'alfabeto. La maestra Britta era la persona più buona che avessero mai conosciuto. Catizzi disse di averne incontrata un'altra così, cioè la signorina Kvist dell'istituto. Ma secondo Lena quella non contava, visto che lei non l'aveva mai conosciuta. La maestra Britta faceva trovare loro ogni volta un piatto di passato di rosa canina e due fette di pane croccante con il formaggio. Quel giorno erano molto contente perché avevano imparato a scrivere La mamma è buona. Io so scrivere molto meglio di te, disse Lena. Oh, quante arie che ti dai! Ma certo che sai scrivere più meglio! Tu sei più grande, disse Catizzi. Non ti ricordi come ti ha corretto la maestra Britta quando ti ha sentito dire più meglio? Si dice meglio e basta! Non me ne frega niente di come si dice perché tanto hai capito cosa voglio dire. Ti dai solo delle arie. È vero o no che tu sei più grande di me? Certo, sarò anche più grande di te ma non vuol dire nulla perché neanch'io sono mai andata a scuola e poi i bambini piccoli imparano più facilmente. Ecco, rispose Lena. Ti credi tanto furba, eh? Io non sono una bambina piccola e se mi dici cattiveria io lo dico a rosa. La prossima settimana saprò scrivere più meglio di te anche se tu sei più grande. E sai cosa? Meglio e basta. Non lo dico anche se so che è giusto perché io dico quello che voglio. Ecco! Le bambine bisticciarono fino a casa ma non litigarono veramente. Quando arrivarono al campo c'era una gran confusione. Degli sconosciuti stavano per azzuffarsi con il papà e con Paul. Quei tizi volevano fare a botte e papà Taycon cercava di farle ragionare. Uno di loro entrò nella tenda dove Rosa stava cuocendo la pancetta. Lei prese la pentola e gliela tirò in testa una gran padellata. La pancetta volò da tutte le parti. Rosa trovò la scena così comica che scoppiò a ridere. Ma si zitti subito. L'uomo sembrava minaccioso. Questa la faccio pagare a tuo padre disse filando fuori dalla tenda. Nel frattempo papà Taycon era riuscito a calmare gli altri che avevano promesso di andarsene. Proprio in quel momento il tizio che aveva preso la padellata in testa uscì dalla tenda e disse che era ora di fare piazza pulita degli zingari. Catizzi non capì cosa intendesse ma l'uomo aveva l'aria talmente arrabbiata da farle intuire che c'erano guai in vista. Bimbi per stasera ci fermiamo qua. Lunedì vi leggerò l'ultimo pezzettino. Un bacio.